Allora, per fare oggi sempre abbiamo il 4 di ottobre 2022, ora alle 18.30, tanto per fare il peritivo, l'ultimo peritivo, dai, l'ultimo peritivo. Per oggi il 4 di ottobre, l'ultimo peritivo, dai, 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 aspetta, dai, 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 l'ultimo peritivo, dai, 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 guardiamo, guardiamo l'ultimo peritivo. Dai, 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 mamma mia, ragazzi, peritivo, ci senti ragazzi, ci senti un profumo buono, dai, 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 facciamo vedere, dai, mamma mia, che profumo, dai, dai. Però, oh, 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 oh